fatto bene accendere e certo ho fatto bene accendere no ho fatto bene accenderla accesa prego prego dai ma che arriva subì via butto via anche i nanetti 3 2 1 farla vicino al tronco e non farla in mezzo è no fai e fai vicino al tronco dove è andato lui senza lanciarla possibilmente si sposta un momento c'è ancora avuto c'è ancora paura adesso dai che deve andare il marco vuol fare come te ma molto meglio allora se la devi lanciare di lanciare sul sasso sopra e no viene uno spettacolo scusami ma va che sfriso che gli ho fatto io no guarda la mia oggi ho già dato vedi gli ho fatto uno sfregio